...e la prima volta in assoluto che l'ascoltai sui, colpita dal genio poetico e dall'immaginario lirico di questa donna che praticamente entrò nel cervello di Annie Lennox, impadronendosi di lei non l'abbandonò più. ...poi ho fatto un disco tutto quanto ispirato alla musica di Cuba, ora torna in Africa ma attraverso la mediazione di altri musicisti del cosiddetto mondo occidentale, dunque la non è un disco giù in prima, faccio guardare in prima, faccio guardare in prima, faccio guardare in prima ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.